Max Petronilli, allora ormai di casa a Sanremo, potremmo dirlo, proprio un po' ricordando che sarai ospite di casa a Sanremo. Un ritorno importante e questa volta con una novità, una canzone nuova. Sì, buongiorno a tutti, è un inedito che quest'anno porterò, come anche l'altro hanno portato l'inedito scritto da me, quest'anno invece porterò Come e Quando, che è scritto da Frankie Carusi, un mio carissimo amico, ed anche un grandissimo musicista della nostra città. Io ho partecipato per una minima parte nella stesura del testo, ma diciamo che gran parte del lavoro relativo a questo brano è fatto da Frankie. Sì, di nuovo a casa Sanremo, quest'anno sarà tutto proprio confezionato direttamente da casa Sanremo, ci sarà un tappeto rosso che collegherà casa Sanremo, che è il vecchio Palafiori, fino al Teatro Ariston, ma io ho già visto in qualche ripresa che mi hanno mandato così di straforo, ho anche visto un meraviglioso palco che è stato montato sulla piazza adiacente all'Ariston, dove ci saranno dei concerti. Mi sembra di aver capito che ci sarà Zucchero, che forse si esibirà alla fine di una delle serate del festival. Diciamo che il fermento è grandissimo, però quest'anno sarà una cosa particolare, perché è il settantesimo anniversario del festival di Sanremo e quindi si è cercato di fare delle cose un po' più in grande. Molte cose succederanno proprio lì anche da casa Sanremo, perché mi sembra che ci sia anche Fiorello che dovrebbe trasmettere l'altro Sanremo, proprio da lì dove saremo anche noi. Una cosa della quale mi fa piacere parlare è che anche quest'anno sarà presente l'associazione relativa ai ragazzi malati della sindrome di Williams, della quale io sono entrato a far parte lo scorso anno e devo dire che ho partecipato ad una loro manifestazione. Mi sono veramente commosso perché è incredibile vedere come dei ragazzi che hanno qualche piccola difficoltà riescano poi, grazie alla musica, a tirar fuori delle potenzialità che erano inaspettate per me. Quindi veramente quest'anno mi farà molto piacere di partecipare a questa cosa. Mi fa piacere salutare un'altra grande musicista della nostra città che farà parte dell'orchestra di Sanremo, quindi io faccio l'imbocca al lupo, mando il mio imbocca al lupo e tutta la più grande buona fortuna che vada tutto come voglia a Maria Letizia Beneduce. Un grande abbraccio cara.